Amici, proseguiamo. Cosa cazzo ho fatto? Ah, sì, giusto. Quindi, ho cambiato un attimino il settaggio delle luci. Ho messo lì una cosa che prima avevo lì. E mi piace l'effetto che dà. Mi piace, ovviamente ho solo metà faccia rosa, perché giusto, potrei anche cambiarlo, ma rosa secondo me. Rosa, questa tonalità, ok, è quella che funziona meglio, quindi... Marda. Vabbè, io ho premuto C, no, mi sa che ho premuto X. Mi sa che avrevo premuto X. E lo... Ok. Lo fai anche, però come? Ehm... E ho capito che è lì dentro. Ehm... Ehm... Però che vuoi che faccia? Ah, ok, non l'ho ripreso. Ho capito che devo perquisire l'ufficio. Ma se tu... Troia... Me lo metti a tempo, il fottuto mantello... Non è che io possa correre proprio. Anzi. Quindi. Quindi, quindi. Non mi ricordo dove devo andare. Ehm... Ma non è questo. Iiii... Cazzo. Mi nascondo. Torna agli ascensori. Ma non... Ma non ho fatto niente. Non ho proprio fatto niente. Non ho proprio fatto niente. Ok. Perfetto. Mi si è ricaricato completamente. L'ottima strategia, eh. Madonna quanto ho rischiato. Però non si fanno domande. Cioè, non vedo niente. Cerchiamo da cambiare, c'è il primo livello. Giii... Ok. Grandi. Vabbè, si chiama l'ufficio misteri. Io aspetto qui. Non so che quello è l'ufficio dell'anglic. Dai, su. Non me lo ricordo il film, eh. L'ho visto un paio di volte. Io non... Non è che non so dove andare. Cioè... E se scappassimo direttamente ai poteri nella morte parte 2? Beh, almeno non c'erano... Io sto spostando il tappetino del mouse. non c'erano. Non c'erano. Già. Ok. Esplora gli uffici. tremendamente generico iiiiiiiiiiii ok ecco perché ho tutto a pancura eeeh vabbè vabbè asco a uccidere un po' e via eccomi siamo tornati con un geni con l'esplorare gli uffici ok chiuso qui c'è perquisiti 1 su 6 va bene qui c'è un puttanaio di gente ma veramente un puttanaio ok il triangolo è pieno eh signore vieni qui fammi prendere un infarto da via ok 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 eeeh vabbè qui c'è un puttanaio di gente dici che c'è un problema no ok ok cosa mi stanno eh ragazzi non c'è mi stanno sparando dalle paeti mi stanno sparando dalle paeti ok 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 no 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 vabbè ti prego. Non... Non smetto di disponere di senatori. Ma io vado via. Spoonato ancora se vado via? No. Abbiamo assistito a una delle scene più... Belle. Di tutto il gioco. Mmm. Io mi ricordo che la prima volta che giocai a... Questo gioco... L'abbandonai arrivato qui. La prima volta che non ci giocai, che ci misi le mani su. Lo... Io l'abbandonai. Non... Hai una volta giunto qui. Perché... Come avete potuto notare... Le cose... Accadono... In maniera talmente randomica... Che... Che insomma... Uno poi... Anche... Da piccolino... Si... Lampi i coglioni... Ecco... Quindi... Ma io mi sa che cosa... Vado... Vado di combattimenti... Per movimentare un po' il gioco... Se no... Cioè... Per movimentare un po' il video... Il gioco... Va senza movimentare di su... A parte queste sezioni... Si si... Figlio di puttana... Ok... Ah... Ma impedimento... Ok... Ma sai che... Fu di espulso... Da dove andai? Andiamo... Non Kung Fu... Eh... Anche... No... Sentito che cosa ho detto? Datemi una mossa! E questo vi è conditorella... Posizione adatta per il mouse... Per il mouse e tastiera qui... Ok... Ok... Allora... Io lo utilizzeri anche la copertura... Capito? Allora... 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 Io lo utilizzerai anche la copertura... Capito? Allora... La vera nemica ovunque... Lo rende più o meno... Lo rende più o meno... Lo rende le coperture... Se vogliamo... Alquanto inutili... Quindi... I mici sono... 8000... Ma... Ve lo dire... Onestamente... Io non credo che... Sia più vista... Una parte estante... Quindi... Io me la cavo... Come mi riesce... Ok... Madonna... Non me lo ricordavo... Colpiamolo col pad... Perché non me lo ricordavo... Così scomodo da giocare... Come ho usato a stiera... Ma proprio... Non... E poi... E' un po' più legnoso... E' Lo è anche col pad... Eh... Non è che... Non è che... Oh... Madonna... Non è che cambi la situazione... Ecco... Ok... Oh... Aspetta 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 aspetta... ok io vorrei fare un passo ma credo che c'è questa cosa che si è giocato col controller io ci ho giocato col controller una sola volta o meglio c'è giocato un bel paio di volte no due o una non mi ricordo onestamente adesso ci passano anche due pietro di l'urto via vai a via oh mio dio com'è il tasto per il vai vaffanculo no dai ah ok ottimo rendi inoffensiva l'ambito come ho detto no adesso ma è di un sconsiglio la sensibilità molto meglio no non è uguale ok vedo vedo poi questa cosa io senza perché senza appiettino gioco meglio non ha molto senso questa cosa qui no c'è ma sono io coglione perché il dubbio ti viene ma la sensibilità è troppo alta perché è troppo veramente scomodo ma no vediamo così oh ma così ha quasi un senso di caldo sai con la mia assistività la sensibilità che non voglio levare assolutamente no va bene dai su dove va adesso dovresti grazie grazie allora lione ok allora fatemi un altro un sistema è tutto qui tecnicamente dovrebbe esserci riuscito poi forse era il caro del mouse ok ahia no mi date un stupificio mi vediamo ancora oh ma vi dispiace lentilissimi via dai su fuggiamo da quest'incubo da quest'incubo fuggiamola qui stai dalla parte sbagliata da quest'incubo da quest'incubo è riconto l'ho venuto tre volte ok dai dai No. Ok. Allora, sempre tutti per di po'. Va bene, quindi. No. No. Ok. Anche con la mia assistita, come avevo potuto vedere, ci sono potete vedere in mani. Perché in mani? Non so parlare, amici, dai. Perché il lock si rimane sull'utilizzo anche se si sposta, ma l'incantesimo non va su di lui. Cosa assurda, ci penso. Noi mi piacciono, loro due che utilizzano gli incantesimi normali sui discernitori, come se avesse mai funzionato questa cosa. Ok. Cosa l'ho sbloccato? No. 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 Cosa l'ho pichotto İyi? No keep!" they come? Ma, c'è... Quello, lo schivi? Qual era il piano? Ma che cazzo state facciando per i... Tu... Vi è un picco di schiaffi. Via! Non c'è nessuno diretto. Via da qui. Vaglia, questo l'ho sfruttito. Eh, con Fingore è un grande incantesimo. Soprattutto nei 2000 alla morte a parte 2. Ehm, 2. Dove veniva il... Ok. Ehi, andiamo all'ascensore. Lascio stare stava di qua, ok. Vai. Ok. 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 Dove sono gli altri? Ok. Quella ora è cazzo vera. Io non me lo ricordo. Mi ho dato sapere che ho preso oppure no. No, non mi è dato. Ok. Va bene, Marcus Fenix. Ok. 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 Queste sono le classiche coperture alla Gears. Ok. Ok. figlia di puttana ti provo a sfidare? non volevo attivare il protego quanti cazzo erano? ok andiamo maia maia ok maia non ho più copertura non ho più copertura ma si può lasciare fare un'altra cosa? proviamo ma credo che in realtà il saccino sia finita esatto è un tentativo troppo tardi no non muoverti dove siamo? stavamo tornando a Grimmaule Place si ma un mangiamarte ha preso Ron ho dovuto cambiare destinazione ma l'ho fatto in fretta e forse ho sbagliato erronea non si è sbaccato così diceva non 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 voldem no non dirlo l'ho sentito al ministero hanno reso tabù il nome di tu sai chi se pronunci il suo nome ti trovano ecco come hanno fatto a trovarci al caffè fermione silenzio sento qualcuno di questo fatto teneremo tra le braccia dei Ghermidori sembra la voce di Dean Thomas perché Dean dovrebbe essere qui? ci sono molte persone in fuga si nascondono dai mangiamorte o dai Ghermidori in segamo Dean quello era un folletto che? vincono un folletto unci 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 abbassa la voce non vuoi che ti prenda ma unci unci cammina con un palo in culo perché oggi ricavi dalle movente non sembrava molto felice è molto meglio che senza mia automatica va bene ho capito uh merda pad 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 ottimo ok no non 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 quello è un incubo senza mia automatica ok ok dai venite qui ok ok allora allora non so perché abbia fatto vincare di un nervioso non ne ho un incantivo proprio tutto non ero utile ok ok io l'ho lanciato trenta volte la 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 toxicilina niente e mi è morta ok e anni allora ma voi non ve la ricordate questa scena di film? no chissà perché no chissà perché ehm ma onestamente non so di più se c'è nei nei ehm nei libri io vado sempre di qua vado a montarla ok vai c'è altro? quindi dobbiamo andare di qui prendi prendi la mano una volta eh questo ron bene così dopo questa scena ci vediamo nella prossima parte